io io sei in onda e sai ciao a tutti ragazzi qui è la ritorno sono tornati a un nuovo video oggi ho ancora l'influenza e cerco di far e cerco di farmela passare con il pramezzino con il tonno che pianta e gli spaghetti la stessa roba è molto piccante l'abbiamo perso ciao a tutti ragazzi qui è Alessandro e ci ho trovato un nuovo video oggi ho ancora l'influenza non mi passano sicuramente mai spero di si e per farmela passare prendo gli spaghetti con il tonno piccante di calabria e mi piace non è il tonno piccante di calabria è il tonno al peperoncino piccante di calabria mangia mangia su che così facciamo vedere se è piccante o no se diventi rosso se diventi rosso vuol dire che picca sottofondo dillo che non siamo in una foresta massonica ma siamo i papagalli come va la gola ti è partito anche lo spaghetto voglio tutta l'acqua del lino saluta ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao